Sì, guardi, io ho 81 e passa anni, quindi non sono abituato a questo tipo di arte, però mi ha sempre attirato anche l'arte sacra, per esempio, dipinta sui muri, tutto ciò che è dipinta sui muri e le stesse case dipinte sono molto più belle delle case. I colori sono la vita, insomma, io me ne accorgo sempre più.